No, semplicemente buongiorno a tutti, ringraziare i nostri cortesissimi ospiti di aver dedicato parte del loro tempo a questo momento performativo in senso ampio. Volevo riprendere quanto diceva il professore, purtroppo noi ragazzi ci misuriamo con degli strumenti che sono i libri di testo, che hanno un valore importante, però spesso non bastano da soli. Se noi non facciamo uno sforzo di parametrazione delle cose che leggiamo alla realtà che ci circonda, fatalmente faremo un'operazione a metà. E questo purtroppo, ripeto, è un rischio che la scuola corre tutti i giorni, per cui non può fare a meno dei libri di testo, non può fare a meno di conoscere, di avere riferimenti storici di come i fenomeni sono nati, si sono evoluti, ma poi c'è la concretezza della vita di tutti i giorni che vi riguarda, per cui tutto quello che sappiate, che ogni cosa con cui prendete contatto sui libri di testo vi circonda quotidianamente ed è rinvenibile in ogni situazione. Quindi cerchiamo di farti solo di questo incontro per poter aprire sempre i nostri parametri, per cercare sempre di superare quel momento in cui siete portati a ragionare, a pensare per capitoli, paragrafi e non per argomenti, che invece sono sempre trasversali e attraversano tutte le vostre esperienze, anche quelle che ritenete più lontani in assoluto. Quindi cerchiamo di cominciare a tenere sempre vivo questa capacità di riferimento all'esterno, dalla classe a quello che accade fuori. Sappiate che la scuola prende valore se facciamo questo tipo di operazione, altrimenti rischiamo di subire un po' le giornate di lavoro che facciamo qua dentro. Grazie a tutti.